Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovo video analisi, finalmente con oltre alla luce e come di consueto all'inizio di ogni stagione, che questa ricordo essere la dodicesima stagione, stagione della caccia, vediamo insieme l'artefatto stagionale e quali mod porta con sé. Per questa stagione abbiamo la zanna di Xivu Arath, un artefatto che senza troppe perdite di tempo si ottiene subito all'inizio, basta semplicemente andare nell'ufficio di Zavala e interagire con il terminale, dove in realtà c'è Osiride a parlare, però dettagli, alla fine è lui che ci dice che ci fornisce questo artefatto. Dunque senza indugiare troppo andiamo a vedere le 25 mod offerte dall'artefatto in questa stagione, come al solito sono 25 appunto, si sbloccano salendo banalmente di livello e l'unica grossa differenza dal passato è che le mod nella prima colonna, quelle con gli effetti anticampioni, non andranno più applicati direttamente alle armi ma si applicheranno soltanto a un pezzo d'armatura, ovvero le braccia. Andiamo dunque a vedere quali archetipi di armi saranno favoriti durante questa stagione. Innanzitutto troviamo i proiettili sovraccarichi per i fucili automatici, quindi quei proiettili che applicano disturbo e che sono efficaci appunto contro i campioni sovraccarichi. Troviamo poi i cannoni portatili inarrestabili che applicano stordimento e sono efficaci naturalmente contro i campioni inarrestabili. Troviamo poi i fucili impulsi antibarriera, quindi quelli che forniscono proiettili perforanti efficaci contro i campioni barriera. Poi i proiettili sovraccarichi, questa volta per i fucili da ricognizione e per concludere le mitragliette antibarriera. Quindi troviamo armi generalmente dalla media lunga distanza, con l'eccezione delle mitragliette da utilizzare nel corto raggio, che male non fanno, oltre ad essere una delle categorie di armi più efficace in molte situazioni. Seconda colonna tutte quelle mod che vanno a migliorare delle statistiche se vogliamo secondarie, come mira di cannoni portatili migliorata, che migliora l'acquisizione del bersaglio, la precisione e la velocità di mira dei cannoni portatili. Troviamo poi antisussulto per i fucili a impulsi, viene da sé l'effetto. Mira di fucili da ricognizione, stesso effetto visto prima ma questa volta per i fucili da ricognizione. Destrezza di fucili a pompa, i fucili a pompa sono pronti all'uso e vengono riposti più rapidamente. E per concludere caricatore per lancia granate, che aumenta la velocità di ricarica di questa categoria di armi. Nella terza colonna dove prima avevamo mod dedicate all'ottenimento di lumen, adesso troviamo ancora delle mod simili a quelle della seconda, quindi antisussulto per cannoni portatili, caricatore per fucili a impulsi, antisussulto per fucili da ricognizione, cercatore di munizioni per fucili a pompa e per concludere saccheggiatore di lancia granate. Arriviamo dunque alla quarta colonna. Sifone dell'impeto, ricarica le tue abilità corpo a corpo ogni volta che un campione viene stordito da te o da un membro della tua squadra. Divoratore di ondata, ricarica le tue granate ogni volta che un campione viene disturbato da te o da un membro della tua squadra. Condensatore di Schwarzschild inarrestabile, che occupa molto la bocca devo dire. Le abilità corpo a corpo da vuoto stordiscono i combattenti senza scudo. Sovraccarico termico, le granate solari o da stasi causano disturbo ritardando la rigenerazione dell'abilità e riducendo il danno inflitto dai combattenti. Per concludere questa quarta colonna spoglie di guerra. Sconfiggere un campione con una mossa finale genera munizioni pesanti per te e per la tua squadra. Uno dei pezzi sempre una delle mod più ambite ogni stagione, nonché più utili chiaramente. Arriviamo dunque alla quinta ed ultima. Fucili a pompa inarrestabile. I fucili a pompa rilasciano una potente esplosione che estordisce i combattenti non protetti da scudo. Abbraccio piretico. Lanciare una super solare ripristina salute scudo. Berserker. Quando la tua super finisce ottieni un bonus temporaneo ai danni delle armi e la durata e la forza di questo bonus aumentano in base al numero di combattenti sconfitti con la super. Carica abissale. Che recita caricati di luce sconfiggendo i combattenti con abilità corpo a corpo da vuoto e per concludere fioritura termica. Uccidere rapidamente i combattenti con attacchi corpo a corpo solari o da stasi generano una sfera di potere per i membri della tua squadra. Ragazzi con quest'ultima mod terminano anche ragazzi con quest'ultima mod e tutte queste connessioni i server di destini 2 termina anche l'analisi della zanna di xivarat l'artefatto della stagione della caccia. Da parte mia come al solito è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi